Buongiorno e benvenuti a tutti. Benvenuti in questa che è una giornata di festa, è un nuovo inizio come lo è ogni elezione di un direttore che l'istituzione si sceglie come figura, come suo rappresentante, e quindi è un'operazione nella quale si sente coinvolta, si sente responsabile della scelta e nella figura che viene scelta del nuovo direttore, l'istituzione investe insieme alla propria fiducia le proprie aspettative, le proprie speranze. È una figura che la scuola tutta, di norma dopo averla scelta, accompagna nel suo percorso, perché in essa ama vedersi rappresentata al meglio. Non è quella fatta al nuovo direttore una delega che viene fatta all'inizio, una volta per tutte e poi lasciata al suo destino. Proprio perché quella della scuola è una comunità, una piccola comunità molto coesa, il senso di appartenenza e direi anche l'orgoglio di essere parte di questa comunità è molto più spiccato e fa sentire quindi ogni suo componente di questa comunità a tutti i livelli direttamente coinvolto nei destini dell'istituzione e di chi la rappresenta. Il nuovo direttore è Luigi Ambrosio, un direttore che, come spiega anche, come mostra anche l'alta adesione di coloro che lo hanno votato del numero dei votanti, è una figura ben scelta, ne sono sicuro per guidare la scuola, perché è altamente rappresentativa della scuola stessa, della scuola normale, lo testimonia tutta la sua storia di allievo, di perfezionando della scuola stessa e anche di allievo di uno dei grandi maestri della scuola, Ennio De Giorgi, una figura che alla scuola ha dato prestigio e fama nel mondo oltre che un grande maestro a sua volta Luigi Ambrosio è superfluo ricordare che diversi suoi allievi occupano una cattedra in prestigiose università in Italia e nel mondo a cominciare da quel Alessio Figalli che proprio recentemente ha fatto parlare di sé parlare bene appunto, ma si è parlato molto anche di Luigi Ambrosio come suo maestro, quale vincitore della medaglia Fields 2018. Dal suo maestro De Giorgi, io l'ho appena conosciuto in anni lontani, anche perché si aveva qualche timore, una sorta di reverenza nei confronti di questa figura che era già avvolta dall'alone del mito appunto, ancora mentre era in vita, dicevo l'ho conosciuta, quel tanto da cogliere i tratti che accomunano appunto Luigi Ambrosio alla figura del suo maestro. Da lui ha mutuato i tratti della sobrietà insieme della amabilità, del garbo personale, dell'attenzione e del rispetto nei confronti dell'interlocutore. Io ricordo il tempo che Ennio De Giorgi al timpano passava per esempio la mattina a parlare anche con le donne delle pulizie, con le camerieri, mostrando grande interesse per tutti gli argomenti di cui veniva fatto interlocutore e confidente. Dicevo appunto che questo tratto di garbo personale, di attenzione e rispetto dell'interlocutore, si accomuna, nell'uno come nell'altro, a un senso molto spiccato della dignità del proprio compito di docente, cioè della funzione civile del proprio ruolo. In questa commistione di qualità, io credo che si possa riconoscere il marchio distintivo della scuola, della scuola normale, e Luigi Ambrosio lo possiede e lo rappresenta, mi sembra in maniera esemplare, perché all'autorevolezza scientifica, che è ovviamente un requisito che non può mancare, appunto è ineludibile in una sede come la scuola, nella figura del suo direttore, Ambrosio sa accompagnare altre qualità, le ha già dimostrate nelle diverse occasioni in cui ha ricoperto ruoli importanti, incarichi di responsabilità all'interno della scuola. Io ho avuto il privilegio di averlo come collega, come preside della classe di scienze, quando io cominciavo ad esserlo della classe di lettere, e la sua colleganza, la sua amicizia, la sua collaborazione è stata per me non solo fondamentale nei fatti, ma è stata una lezione appunto di metodo e di stile. E a queste qualità personali, dicevo, Ambrosio associa non solo le competenze tecniche, ma anche le doti, diciamo così, politiche di equilibrio, saggezza, moderazione, di lungimiranza, che sono sicuro gli permetteranno nel ruolo che ora riveste di guida istituzionale e anche morale della scuola, gli permetteranno di rappresentare la scuola nel modo migliore e più appropriato. Perché è una grande verità che lo stile e la condotta del direttore qualificano l'istituzione che egli rappresenta, diventano lo stile, direi la cifra dell'istituzione stessa, agli occhi del mondo. E io non ho dubbi che Luigi Ambrosio sarà un grande direttore, è con questa fiducia quindi che gli esprimo gli auguri della classe che rappresento, ma credo di poter dire della scuola intera. E tuttavia questo giorno di festa, appunto, in questo giorno di festa la scuola normale non può non coinvolgere un'altra figura cruciale nell'organigramma della scuola, appunto, associandola nella manifestazione di gratitudine che oggi la scuola esprime al suo direttore. Questa figura è Andrea Giardina. In questa brevissima graziaru maxi, o mi permetto di parlare così perché parlo al professore di storia romana, non voglio ripetere, dicevo, in queste parole quello che ho già detto nella recente cerimonia organizzata dai suoi allievi e per la sua lezione ultima del 24 maggio scorso. Una performance molto brillante che è stata una lezione di classe e di cultura, non meno che di dottrina, e che ha richiamato chi ha potuto assistere un pubblico molto vasto che includeva il meglio dei docenti di storia antica, ma anche figure del mondo non accademico, figure prestigiose della cultura, appunto, italiana. A Giardina la scuola deve molto. Si è trovato a occupare posizioni di grande responsabilità in contesti diversi. Direi che è stato l'uomo delle istituzioni, della continuità delle istituzioni, e a dover gestire anche situazioni molto delicate. In questo ruolo, potremmo dire con Dante, di nocchiero in gran tempesta, e ovviamente anche grazie all'autorevolezza che gli deriva dall'essere uno studioso di grande prestigio internazionale e anche di grande visibilità pubblica, non c'è bisogno che io ricordi il ruolo di protagonista che ha avuto nelle scorse settimane in una grande battaglia civile come quella per la difesa della storia, in questo ruolo ha sempre saputo rappresentare la scuola con equilibrio, con misura, con senso del kairos, direi, sempre nel segno della salvaguardia della dignità dell'istituzione. È quindi questo, lo spirito che anima questa giornata di festa e questa cerimonia che la scuola tributa al nuovo direttore e alla figura che gli trasmette il testimone, con questo spirito, diciamo, e con la certezza che grazie a figure come queste la scuola continuerà a fare onore alla sua grande tradizione e a guardare con piena fiducia agli orizzonti futuri, con questo spirito io concludo il mio intervento. Buongiorno a tutti. Io sono qui assieme a Morena oggi per rappresentare anche la voce degli studenti in questo momento in cui la scuola vive con collettività, con senso, diciamo, di condivisione, un passaggio di testimone, in effetti, e l'apertura, appunto, di un percorso a cui noi tutti siamo sicuri collaboreremo con grande impegno e con grande senso di responsabilità. Ora, qualche giorno fa ero a lezione di storia romana e tra la fine di un seminario e l'inizio del successivo il professor Giardina si è assentato perché ha ricevuto una telefonata. Quando è tornato in classe ha annunciato sostanzialmente dal Ministero l'arrivo, la conferma della nomina a direttore del professor Ambrosio, devo dire con un'aria soddisfatta. Ho promesso che avrei citato Fabrizio Pedisano in questo discorso perché effettivamente il suo commento, interpretando, credo, il sentimento di molti in quell'aula, sia stato adesso sei un uomo libero. Ora, naturalmente, per usare una parola più bella, perché le parole belle piacciono in queste occasioni, appunto, piuttosto che di una liberazione, parliamo di passaggio di consegne, parliamo di passaggio di testimone ed è un po' seguendo questa logica che anche noi due oggi siamo qui ed è assolutamente un caso, infatti, che a parlare sia prima uno studente di storia antica e poi un allieva di matematica, puramente casuale, per rispecchiare appunto questa logica di passaggio di testimone. però speriamo, al di là dell'idea di rappresentare la comunità studentesca nel suo complesso, di dare anche una visione un po' personale da studenti di questo momento. Ora, io ho conosciuto il professor Giardino il mio primo anno quando si divertiva a stupire dei ragazzi appena arrivati dal liceo parlando di Ascioca, di Prisco di Panion, dell'epistolario di Napoleone, di Gheorgh Mosse, ma potrei, insomma, continuare, come sapete benissimo, a lungo. Cosa importante, insomma, sottolineare in questa prospettiva istituzionale che è stata richiamata già dal professor Rosati, che io l'ho conosciuto già come vice direttore, in effetti. Cinque anni dopo, continuo a frequentare i suoi corsi, continuo a sentir parlare di Cassiodoro, dell'Italia romana, di Silla, e continuo a trovarlo come vice direttore, anzi, come siamo stati abituati a sentirlo chiamare in questi mesi direttore facente funzioni. Ora, il professor Giardinà ha dimostrato in questi mesi, e io mi accodo a un lungo coro di riconoscimenti istituzionali ben più competenti di me su questo campo, ha dimostrato, oltre alle grandi doti di delicatezza e di fermezza, che lo hanno sempre contraddistinto in questa sua continuità istituzionale, come è stato ricordato, anche un grande tatto e una grande capacità di mantenere coesa la scuola in momenti in cui il mantenimento dell'equilibrio non era sempre scontato. Questo è stato importante, perché proprio da questo equilibrio e dal coinvolgimento nel dialogo, in cui si è inserito perfettamente in una linea di continuità, direi il professor Ambrosio, è da questo dialogo, dicevo, che parte sicuramente è un nuovo inizio che veda la collaborazione di tutte le componenti della scuola al percorso che vediamo aperto davanti a noi. Ora, come il professor Giardina sa benissimo, lo sa benissimo perché me l'ha insegnato lui, il politico romano non va mai veramente in pensione, non esiste una nozione propria di vita privata, quindi sono sicuro, sono sicuro e naturalmente me lo auguro anche di vederlo spesso in questi corridoi, in questa scuola a cui ha dato tanto come penso di poter dire interpretando il pensiero di tutti quanti sono qui oggi in quest'aula. Oggi sono poi particolarmente felice accanto ai ringraziamenti di portare anche gli auguri al nuovo direttore, il professor Ambrosio. Ora, per questioni banalmente disciplinari non ho conosciuto altrettanto intensamente il professor Ambrosio in questi anni, diciamo, il mio rapporto con l'analisi si è fermato al liceo e poi i nostri percorsi sono separati. Però ho sentito parlare di lui indubbiamente, il professor Rosati ricordava il suo ruolo di preside della classe di scienze quando sono arrivato appunto cinque anni fa e dai miei compagni e dai miei amici appunto di matematica. Negli ultimi mesi naturalmente i nostri rapporti si sono intensificati e ho avuto modo di apprezzare quello che penso abbiate avuto modo di apprezzare anche molti in questa stanza cioè il grande coinvolgimento nel dialogo che il professor Ambrosio ha da subito instaurato con un grande senso di responsabilità per capire come affrontare al meglio una situazione che si poneva delicata sotto molti punti di vista e soprattutto per ricevere spunti, suggerimenti, criticità e la sua disponibilità ad accettarli con serenità cosa non scontata posso dirlo diciamo con una certa esperienza mi ha molto colpito quello che mi ha ancora più colpito è poter testare nonostante il breve tempo in cui questa frequentazione negli ultimi mesi si è appunto intensificata grandi doti di umanità e di delicatezza in circostanze molto particolari molto difficili che credo lui ricorderà con la stessa intensità con cui le ricordo anch'io in quelle occasioni oltre a mantenere un profilo assolutamente corretto e rappresentativo già in previsione del ruolo che avrebbe ricoperto poi effettivamente che ricoprirà nei prossimi anni alla scuola ha dimostrato questo mi piace ricordarlo in modo particolare davvero una grande umanità e un grande senso di empatia con gli allievi lo ricordo naturalmente in questa in quest'ottica per la voce che io rappresento qui stamattina ora naturalmente ho dei bei ricordi diciamo così già consolidati possiamo dire con l'uno e con l'altro di questi soggetti del passaggio di testimone e quello che mi posso augurare è che chi mi seguirà sia nel ruolo di rappresentante che nel ruolo diciamo molto più interessante molto più stimolante di allievo possa formarsene ulteriori e proseguire questo percorso di dialogo che in una linea di continuità molto molto coinvolgente segna un nuovo inizio davvero molto promettente grazie buongiorno a voi tutti siccome Michele ha iniziato raccontando uno dei ricordi più recenti condivisi con il professor Giardina io vorrei rievocare invece il primo che posseggo del professor Ambrosio applicando la dinamica dell'intreccio tra le due classi a quella tra le memorie prima di intraprendere i miei studi universitari la mia conoscenza circa ai volti dell'ambito del sapere a cui mi stavo affacciando era scarna ma questo mi permette di dire che il mio primo incontro con il professore sia avvenuto senza precedenti congetture o influenze ero in sede d'ammissione durante l'esame orale il professore Ambrosio mi ha rivolto quella che sarebbe a posteriori stata l'ultima domanda del colloquio era un esercizio che prevedeva nella sua soluzione l'utilizzo di una disuguaglianza la disuguaglianza di Cosci Ciparz per gli appassionati comunque al termine della risposta avevamo accennato alle note storiche di tale disuguaglianza scherzando sulle dinamiche di assegnazioni del merito della scoperta di tal importantissimo risultato oltre alla piacevolezza del ritrovare dialogo anche in una sede d'esame a confronto di una più comune e più comoda assetticità correlata alla formalità della circostanza il valore del momento risiede nell'espressione da lui assunta durante l'ascolto la quale era pregnante di un'attenzione e di un interesse rari da trovare trapelava una umanità che sconfina la comprensione per tramutarsi in fiducia della consistenza di questa intensa seppur breve sensazione ne ha una concreta prova i suoi studenti il professore Ambrosio ha sempre presentato attenzione nel raggiungerci ad un livello personale trascendendo i ruoli contingenti a coloro che hanno avuto il piacere e la possibilità di conoscerlo anche come relatore e referente non sono sfuggite doti come la disponibilità la praticità e l'affidabilità qualità che siamo certi saprà riporre anche nella sua nuova carica direttore della scuola è purtroppo diffuso il preconcetto che una persona dalla formazione scientifica abbia interessi circoscritti all'ambito di cui si occupa si accusano un po' a volte gli scienziati di sapersi muovere solo all'interno di ciò che studiano e magari di non nutrire curiosità o di avere capacità e conoscenze di ciò che ne è estraneo sulla veridicità di questi luoghi comuni non credo sia necessario esprimersi ma se qualcuno conservasse ancora dubbi a riguardo potrebbe prendere ad esempio il professore Ambrosio anche solo la prima impressione che suscita è diametralmente opposta è capace di mantenere con le persone più piani di intesa mostrando in questo una sensibilità oltre al comune la ringraziamo di mostrarci ora anche il suo coraggio prendendosi la responsabilità che consegua la nomina di direttore e di voler reggere senza scegliere via più semplice o chiudendo canali la ringraziamo di voler continuare a porsi come primus inter pares di cui è stata prova la sua apertura all'incontrare anche individualmente qualsiasi elemento proveniente da qualsiasi ambito del corpo della scuola normale noi allievi abbiamo fiducia che questo sguardo sarà mantenuto anche assumendo l'onore e l'onere di carica di direttore della scuola abbiamo fiducia che l'impegno non lo ridurrà ad essere il proprio incarico e che lei manterrà la completezza d'animo che gli è propria coniugando tale ruolo di rappresentanza con ciò che già lei è legato a questo vorrei citare una frase contenuta nel suo programma di mandato che noi allievi abbiamo particolarmente apprezzato ovvero la seguente intendo mantenere se possibile l'attività didattica per me linfa vitale ai livelli attuali la ringraziamo professore per essersi espresso in queste parole ed averci regalato direttamente uno scorcio del suo rapporto con la sua professione davvero molto bello ed è stato tra l'altro di parola proponendo l'anno prossimo il medesimo numero di suoi corsi tenuti nell'anno appena trascorso mi dispiace molto avere poca esperienza del professor giardina e così dovermi ritrovare a poter spendere solo poche parole riguardo di lui la conoscenza che ho di lei è di fatto legata alla sua veste ufficiale la circostanza però ha permesso di venire a contatto delle sue qualità personali prima ancora che professionali gli allievi ci tengono a ringraziarla nuovamente per il suo coraggio e il suo acume nel gestire un momento così delicato mi dispiace non averlo potuto incontrare nella sua dimensione didattica confesso di avere lucubrato sovente di infiltrarmi a qualche lezione del corso di lettere di fatto una delle qualità non sempre ben sfruttata della scuola normale superiore oltre a quella di garantire una specializzazione più che consistente nel proprio ambito di studi è quella di permettere ai propri studenti di mantenere un contatto forte con i propri interessi in altri campi tramite il confronto e l'amicizia con coetanei i cui studi sono solo apparentemente così lontani l'eccellenza secondo me risiede nel raggiungere profondità senza perdere in ampiezza né in poliedricità nella certezza che il professore Ambrosio sia la persona migliore per conservare e sviluppare questa prospettiva noi allievi gli auguriamo di realizzare il suo mandato con la medesima fiducia consapevolezza e serenità che noi abbiamo a riguardo grazie a tutti buongiorno a tutti sono Fabrizio Rossi rappresentante del personale tecnico amministrativo in senato accademico tramite della mia persona giunga il nuovo direttore il professore Giardina e all'intera comunità della scuola normale il saluto di tutto il personale tecnico e amministrativo della scuola normale che ha l'onore di rappresentare nel senato accademico quella che la scuola ha vissuto negli ultimi mesi è stato di certo uno dei periodi più difficili per la vita della nostra istituzione e sicuramente è nell'auspicio di tutte le componenti che si torni quanto prima a quel clima di serenità e collegialità che ha sempre contraddistinto l'ambiente della scuola nella delicata fase conclusasi con l'elezione del nuovo direttore mi preme sottolineare l'importante apporto del direttore facente funzione professore Andrea Giardina che ha saputo gestire con pacatezza equilibrio il grande senso istituzionale una situazione che mai si era verificata in oltre 200 anni di storia della scuola normale a lui va dal sincero ringraziamento della componente che rappresenta augurandoli al contempo il meglio per il proseguimento delle sue attività future il personale tecnico amministrativo si è sempre contraddistinto tutti questi anni per professionalità e senso di appartenenza all'istituzione non sottraendosi mai alle proprie responsabilità e portando sempre un contributo concreto nelle situazioni istituzionali che in tanti anni si sono presentati alla scuola normale anche nell'ultima vicenda che ha investito nel nostro Ateneo la correttezza istituzionale e la propositività delle persone tecniche amministrativi sono stati elementi inconfutabili e di assoluta trasparenza adesso però è giunto il momento di voltare pagina occorre andare oltre quanto accaduto nell'interesse primario della nostra istituzione e con il contributo di tutte le componenti per questo voglio ringraziare il professor Luigi Ambrosio per la disponibilità a candidarsi al direttore conscio sicuramente del compito difficile che lo attende per affrontare le sfide e raggiungere i nuovi obiettivi che la scuola normale si preferirà negli anni a venire dal suo programma di mandato e nei vari incontri avuti a vario titolo con il personale tecnico amministrativo è emerso il ruolo centrale della collegialità fattore che la nostra componente ha sempre condiviso perché elemento positivo e imprescindibile in qualsiasi momento della vita istituzionale sempre e comunque nel rispetto dei ruoli il programma di mandato il professore Ambrosio si preferisce tra gli altri molteplici obiettivi dalla didattica all'internozializzazione alla ricerca dal rapporto con le altre scuole d'eccellenza alle politiche della federazione questi sono alcuni degli aspetti con i quali avremo a che fare da subito e nei prossimi anni qui alla scuola sono tutti grandi impegni per i quali risulta fondamentale l'apporto e il ruolo del personale tecnico amministrativo che di certo come sempre non si sottrarrà mai a queste sfide ma è necessario considerare la nostra componente al pari delle altre componenti della scuola come elemento determinante nel raggiungimento di tali obiettivi e non come semplice costo di funzionamento sul bilancio valorizzando nell'apporto la professionalità e le competenze come aspetti necessari e importanti nella vita istituzionale e con riconoscimenti concreti dal nuovo direttore persona che gode della nostra stima e della nostra fiducia alla luce dei rapporti di collaborazione avuti in tutti questi anni di vita alla scuola normale ci aspettiamo una particolare attenzione e sensibilità delle problematiche che riguardano il personale tecnico amministrativo ed è a nome di tutto il personale tecnico amministrativo che voglio augurare al professor Luigi Ambrosio nuovo direttore della scuola normale un buon lavoro nell'espretamento del suo mandato che ci auspichiamo dia nuovo impulso e nuova linfa linfa alla nostra istituzione grazie a tutti e adesso come vuole la sapiente regia che organizza questi eventi direi che è giunto il momento delle due figure che abbiamo fin qui ripetutamente evocato comincerei appunto in una rappresentazione simbolica del passaggio di testimone del professor Giardine non vorrei come il famoso maratoneta arrivato che ha perso la gara a due metri dal traguardo dopo aver detto il 24 maggio la mia ultima lezione che speravo di non piangere poi arrivare a oggi a commuovermi non che sia male commuoversi la commozione c'è ma insomma speriamo come diceva appunto il poeta una commozione dalle lacrime asciutte che non è diciamo necessariamente di rango inferiore questa riunione della nostra comunità è stata voluta soprattutto per in un primo momento io ho pensato esclusivamente per Luigi Ambrosio per rivolgersi il nostro augurio di buon lavoro e per ringraziarlo davvero perché sappiamo che non è stata una scelta facile è stata una scelta di passione e quindi entusiasta ma non facile quella sua di rendersi disponibile in un momento così difficile ora quando dico momento difficile non mi riferisco ovviamente alle vicende di questi mesi credo che abbiamo condiviso questa storia che possiamo considerare alle nostre spalle guardiamo avanti come si è detto anche poco fa dobbiamo guardare avanti dobbiamo guardare oltre mi riferisco alla quando dico situazioni difficili alla contingenza storica che stiamo vivendo la cui le cui modalità nessuno credo che abbia ragione o buona fede può negare siano drammatiche la percezione più immediata è quella della crisi italiana che per diciamo intimità per immersione così appare a molti italiani appunto drammatica la loro condizione di italiani ma nel nostro paese l'età dell'ansia perché questa è una vera età dell'ansia che stiamo vivendo ha una percezione una proiezione europea e mondiale che la enfatizza le scuole le università gli enti di ricerca hanno in questa situazione un compito accresciuto perché si trovano oggettivamente a confrontarsi con un veloce smantellamento di principi e di ideali che tante generazioni in Italia e nel mondo hanno considerato per tantissimo tempo acquisite come fondamenti della condizione umana ora la storia insegna che nelle nulla può garantire la perennità di determinati modi di essere uomini tenendo presente che naturalmente la perennità dei ideali dei buoni principi è una perennità che è vitale se cambia e se si trasforma ma ha la sua base una considerazione profonda e riducibile della dignità umana ma questo non può essere ovviamente un così un rassegnato invito alla rassegnazione nell'epoca dell'ansia che ci è toccata di vivere la dilapidazione morale e culturale suscita un allarme crescente in molti nel nostro paese ma non solo però parliamo di noi nella coscienza che essa sia difficilmente riversibile secondo alcuni irreversibile che cosa accade in situazioni del genere ce lo dice ormai gli antichisti stanno prendendo stanno godendo di questo spazio per così per rievocare i loro autori l'ha fatto prima Giampiero sì diciamo ce lo dice Tacito Tacito che è di casa in questo edificio per i grandi maestri del passato che ne hanno coltivato lo studio e per quelli del presente come Giampiero che ne coltivano in modo nuovo la appunto l'apprezzamento e la trasmissione agli studenti alla fine di una crisi di una grave crisi una grave crisi politica gli uomini si guardano stupefatti per la speranza recuperata ma c'è un problema dice Tacito tardi ora sunt remedia quam mala questo è un latino che è quasi italiano i rimedi sono più lenti dei mali e poi una sentenza una sentenza memorabile che deve far riflettere tutti noi che qui insieme operiamo collaboriamo per il bene della scienza e per la quella che possiamo dire la religione laica dell'insegnamento che cosa dice scrive Tacito come i nostri corpi crescono lentamente e si estinguono in fretta così gli ingegni e la cultura è più facile sopprimerli che riportarli in vita tardi ora e media sunt quam mala ecco è più facile uccidere la cultura è più facile uccidere l'ingegno quindi possiamo dire i buoni principi gli ideali che ripristinarli che farli risorgere comunque se è vero come è vero che dai collassi morali e culturali si esce molto difficilmente più difficilmente che dalle crisi economiche contrariamente forse a quello che la maggior parte delle persone pensa il compito di un'istituzione come la scuola con una posizione speciale nel panorama più ampio delle scienze della cultura e dell'insegnamento è oggi particolarmente delicato per la sua forza concreta e per ciò che essa rappresenta simbolicamente la scuola speciale come la nostra possono apparire e certamente per tanti aspetti sono solide e forti rispetto ad altre istituzioni alcune alcune le considero non a torto privilegiate ma bisogna intendersi sul senso di questo privilegio comunque sono forti sono solidi più di altre certamente ma sono a tempo stesso molto delicate e fragili proprio per lo stesso motivo perché la loro natura li pone dentro un limite sottile dentro il quale arretrare può essere particolarmente rischioso la pausa può essere verenosa immaginare la cosa pubblica o una istituzione insomma come la nostra come il corpo umano è una metafora inventata già dagli antichi greci abbiamo già visto usata da tacito se questa metafora ci porta come può portarci l'immaginazione possiamo dire che in un frangente come questo la nostra istituzione che tanto amiamo ha la necessità di un respiro forte non parossistico ma intenso ha bisogno di una vitalità sobria e quindi acuta e per questo caro Luigi che il tuo stile sobrio è acuto perché di questo si tratta per questo tuo stile che gli auguri che ti rivolgiamo possono anche permettersi il lusso oggi di essere festosi malgrado tutto quello che ho detto anzi le feste più belle sono quelle che esprimono fiducia nei momenti difficili perché altrimenti sono scontate e quindi sono banali quindi tanto è più grande la festa oggi per Luigi e per la scuola quanto più siamo consapevoli dei problemi diciamo non soltanto della scuola ma più in generale del nostro abitato più largo che ci accomunano perché naturalmente questa come sappiamo è una comunità una comunità competente e motivata condivido mi ha molto ammirato lo sapevamo ma fa piacere sentito detto con tale convinzione ripetuto in circostanze come queste quello che diceva Fabrizio quanto orgoglio che i lavoratori della scuola ma siamo tutti i lavoratori della scuola non tutti abbiamo gli stessi problemi ma siamo tutti i lavoratori della scuola una comunità competente e motivata nel momento in cui esprime al suo nuovo direttore gli auguri si assume una responsabilità ciascuno di noi si assume una sua responsabilità ciascuno nel ruolo che gli compete ciascuno indispensabile la mia persona ha un ruolo davvero minore minimo diceva appunto Michele prima il concetto di liberazione mi sono sentito liberato diciamo sollevato sì sollevato perché mi faceva contento che infine la scuola fosse affidata a una figura nel pieno delle sue capacità nel pieno del suo potere del suo diciamo della sua funzione di governo non liberato ma per un motivo molto semplice perché io scusate se parlo benissimamente di me perché per me la libertà è dentro l'università non è fuori e quindi forse mi sentirò prigioniero quando uscirò di qui ma fino a che sono qui mi sento libero ma certamente molto sollevato e molto contento perché la scuola finalmente fosse affidata alle mani di una persona di tale valore di tale convinzioni e di giovane pieni di energie e di competenze per quanto riguarda poi la mia vicenda personale io posso solo dire a tutti un grazie di cuore per quello che ho sentito in questi mesi intorno a me e per quello che oggi è stato ripetuto sono elogi che mi commuovono e che sono davvero un grande onore ora per il momento della mia vita in cui mi arrivano io riprendo così come una personale estate indiana in un autunno con i suoi colori intensi giallo oro il rosso vivo o scuro il viola e poi per involgere tutti questi colori in una tonalità di ruggine che non è meno emozionante e meno esteticamente brillante questo diciamo è quello che io avverto in questo momento cari amiche e cari amici però la verità è che io veramente lo so che è un po' retorico ma io veramente giuro io ho fatto soltanto il mio dovere e aiutato da tantissime persone dai tre presidi dal segretario generale dal nuovo diciamo futuro direttore dagli uffici scusate se non ricordo tutti ma ciascuno di voi sa a chi pensa ma penso anche alle persone con cui non ho avuto modo di avere rapporti diretti ma la cui presenza immanente è stata è stata forte mi hanno aiutato tutte queste persone con la loro bravura e con il loro carore umano ora è facile compiere il proprio dovere quando il proprio dovere è vissuto come parte di un dovere indiviso e indivisibile questo rende facile il compito il dovere indiviso e indivisibile di una comunità come la nostra che si riconosce nel rispetto e nella cura della cosa pubblica a queste condizioni credetemi è davvero molto facile grazie 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 questo punto molto atteso il direttore bene allora buongiorno a tutti vi ringrazio mi sentite sì vi ringrazio per aver voluto e potuto partecipare a questa piccola cerimonia e vorrei usare un po' come guida per questo mio breve discorso i primi tre concetti che ho ritenuto di esprimere immediatamente dopo aver avuto la notizia dell'elezione perché forse sono quelli più impregnanti dal mio punto di vista vabbè il primo concetto è naturalmente il ringraziamento a tanti illustri colleghi al personale tecnico-amministrativo agli studenti per la fiducia che hanno riposto in me e naturalmente sapete insomma l'ho percepita forse anche in questo momento il senso di responsabilità insomma con cui vivo questo momento e i momenti successivi e lasciatemi anche aggiungere che sono pienamente consapevole dei miei limiti e dei miei difetti per i primi naturalmente conto sulla collaborazione di tutti devo dire che i segnali che già sto avendo in questi primi giorni sono ottimi quindi diciamo questo non mi preoccupa molto per i secondi diciamo i difetti ci sto lavorando uno è sicuramente quello di migliorare le mie doti oratorie una certa tendenza alla brevità come in altre occasioni avrete sperimentato l'altro è una certa innata riluttanza verso l'enfasi e le cerimonie d'altro canto in questo caso rifacendomi a una delle espressioni di Andrea Giardina penso che la scuola avesse veramente bisogno di questo rito di passaggio che segni un momento di svolta rispetto a messi di grande tensione e sofferenza e riavvio a pieno regime delle attività il secondo concetto che vorrei ancora ribadire è la necessità di custodire la scuola certo facendola crescere in certe direzioni che magari valuteremo tutti insieme ma senza stravolgere la natura il terzo concetto che ho espresso immediatamente dopo l'elezione è la ricchezza di idee e di energie positive della scuola questo è un dato evidente a chi vive la scuola dall'interno ma io ho potuto constatare già nella prima serie di incontri istituzionali che ho avuto quanto sia alto il prestigio di cui gode la scuola persino da parte di chi ha un'idea molto approssimativa della scuola e la conosce solo marginalmente accanto a questo però non dobbiamo però sottovalutare il grosso danno d'immagine che la scuola ha avuto e che ho potuto anche percepire in altri incontri magari in ambienti più politici su questo dobbiamo veramente lavorare stiamo già lavorando e dobbiamo mandare i giusti segnali vi dico ora due parole su quanto sta avvenendo e quanto avverrà nei prossimi giorni come sapete dopo alcuni travagli ministeriali la nomina è al fine arrivata mercoledì scorso già lunedì ho avuto a Pavia il primo CDA federato ieri ho avuto un incontro al MIUR sollecitato dal MIUR con Giuseppe Chine capo di gabinetto del ministro nel pomeriggio poi un primo incontro con le delegazioni sindacali domani vi renderò nota la lista dei delegati e dei prorettori e nel CDA del 12 verrà proposto il nome del vice direttore in questi giorni con Thomasin che vorrei veramente ringraziare per tutto quello che sta facendo e quello che farà stiamo in un certo senso smaltendo una sorta di onda anomala di riunioni decisioni decreti che si è infranta proprio in questi giorni dovuto ovviamente ai vari messi di ordinaria amministrazione infatti avevo proposto a Thomasin di allungare la settimana a nove giorni ma pare che questo non rientri nei poteri del direttore quindi ci sarà comunque modo nelle prossime settimane di avere varie riunioni anche importanti impegnative sul bilancio di esaminare le questioni relative alla federazione allo statuto all'istituto Ciampi di creare più di un gruppo di lavoro ma certamente almeno uno per la redazione del piano di sviluppo e tanto altro però diciamo non penso che in questa occasione che un po' di festa sia corretto parlare di difficoltà urgenze criticità invece ci terrei a trasmettere da subito qualche segnale positivo che viene dagli incontri che ho avuto devo dire anche prima dell'arrivo della nomina ministeriale con il rettore dell'università di Pisa con il quale abbiamo parlato di vari temi e in particolare di vari temi di grande interesse per gli allievi e sul quale c'è già stata qualche azione positiva con l'amministrazione comunale di Firenze per gli spazi del dipartimento di scienze politiche e sociali e anche con potenziali finanziatori speriamo che ora queste iniziative vadano avanti e ci terrei anche a menzionare alcune importanti più di una importante e franca riflessione che ho avuto con Sabina Nuti con la rettrice della scuola Sant'Anna in merito alla federazione insomma penso di non poter di non sbilanciarmi se dico che forse alcune nubi un po' si stanno già diradando per concludere ora nonostante quello che lui pensa una delle ragioni più importanti per questo incontro è anche la possibilità è già stato fatto ma lo vorrei ribadire veramente io a nome personale a nome di tutti esprimere collettivamente pubblicamente un richiazzamento ad Andrea Giardina per quanto ha dato e darà alla scuola ma non solo come studioso ma anche in questi lunghi mesi di direttore facente funzioni già durante il discorso che ho fatto per la sua ultimate lecture ho già ricordato quanto ho imparato da lui e quanta sintonia tra noi si è sviluppata in questi ultimi mesi quindi Andrea grazie ancora ora dovrei avere qualcosa in tasca bene come appunto sapete la mia caratteristica è la brevità quindi penso che possiamo soffrire del grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti